presentati ciao mi chiamo Francesco B ho 6 anni e faccio la prima A cosa vuoi fare da grande? il progettista mi fai uno spettacolo? si vi canterò rock and roll più rock and roll sono una star più famosa del presidente perché rock and roll più rock and roll è la più famosa di tutte sono una star fai un appello al pubblico per farti votare ma se vi è piaciuto quello che ho cantato ho votato perché se no fa lo stesso